Il governo italiano faccia qualcosa e si sommi a quei paesi che chiedono di trascinare Nicolás Maduro di fronte alla Corte Penale Internazionale. Lo chiede Andrea Del Mastro, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Esteri, che ha lanciato una mozione per denunciare il presidente sudamericano. L'occasione è stata data dalla visita in Parlamento di Tamara Suhu, avvocatessa, attivista e da anni rifugiata politica nella Repubblica Ceca, che da qualche giorno in Italia pensa a sensibilizzare politici e opinione pubblica sul dramma del suo paese. La persona che ha letteralmente montato il dossier che ha permesso agli attivisti di convincere i togati dell'AIA a studiare le accuse estremamente circostanziate che provano senza ombra di dubbio non solo l'esistenza di prigionieri politici in Venezuela, ma anche le sparizioni, le torture, gli omicidi e le violenze sessuali con cui vengono perseguitati gli oppositori politici. Le iniziative a sostegno dell'opposizione venezuelana sono state finora affidate alla buona volontà dei singoli. Fratelli d'Italia chiede invece che sia l'esecutivo italiano a farsi carico di un atto ufficiale. Per dimostrare che il governo non tollera un paese con un'altissima presenza di persone con cittadinanza italiana, i diritti umani vengano costantemente violati.